Il protagonista assoluto e positivo della gara del Bologna è stato anche Ndoi, l'ex giocatore del Basilea ha giocato su due fasce e sempre bene nei due tempi, non è stato troppo cattivo, troppo concreto sotto porta e questo forse è un suo limite come di tutto il Bologna, come dicevamo anche prima di Zizze, però è un ragazzo che ha talento, che gioca bene con entrambi i piedi, ha sfiorato il gol nel finale, probabilmente si era preso un calcio di rigore non visto da arbitro e VAR, insomma ha fatto una grande, grande partita, pur senza segnare o fare assist, porta a casa un bel 6,5.